Un bambino di 9 anni e sua nonna di 52, entrambi foggiani, sono morti ed altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente che due notti fa ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante sull'A14 a Castel San Pietro in provincia di Bologna. Nell'impatto sono rimasti feriti in modo lieve anche il marito della donna deceduta, un 54enne, e due donne di 21 e 40 anni, entrambi romene, tutti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. I tre non sono in pericolo di vita. Nonna e nipotino viaggiavano sull'Audi A8 condotta dall'uomo rimasto ferito che è stata tamponata da un'auto articolato mentre era ferma in corsia di emergenza all'altezza di Castel San Pietro. Il bimbo, che avrebbe compiuto dieci anni tra poche settimane, era sui sedili posteriori dell'auto ed è morto sul colpo. La nonna, trasportata in ospedale in condizioni disperate, è deceduta poco dopo. Il leso, il conducente del mezzo pesante e di nazionalità ungherese, sono intervenuti i vigili del fuoco e per i rilievi la polizia stradale. Il camionista, un 44enne residente a Cesano Maderno, nel milanese, è stato sottoposto all'alcol test che ha dato esito negativo. E non sarebbe emersa alcuna irregolarità neppure dai primi accertamenti della polstrada anche nel cronotachigrafo digitale del camion che registra le ore di guida fatte dal conducente. Quel che è certo è che il mezzo pesante avrebbe invaso almeno in parte la corsia di emergenza, dove era ferma l'Audi, la cui parte posteriore è rimasta distrutta finendo poi nel campo che fiancheggiava la carreggiata.